Ben ritrovati tutti quanti in una nuova puntata del Puzzillo del Sud, chi vi parla è il vostro sempre più supereroe zombie puzzillo e oggi vediamo il tutorial e la recensione di Marvel Zombies. Prima di iniziare come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale così da rimanere aggiornati su tutti i contenuti che usciranno e non dimenticate di attivare la campanella. Inoltre se siete interessati all'acquisto di giochi da tavolo vi consiglio lo store Magic Merchant dove troverete tante promozioni e offerte. Per approfondire vi lascio il link in descrizione e nei commenti. Marvel Zombies è un gioco da tavolo collaborativo da 1 a 6 giocatori della durata indicativa di 60 minuti a partita, edito dalla Camon grazie a una discutissima campagna Kickstarter. In Italia lo localizza Asmode Italia che tra l'altro ringrazio tantissimo per avermi fornito la copia per potervi fare questo video e gli autori sono Fabio Curie e Michael Schinael, vabbè loro. Per quanto riguarda l'ambientazione siamo nell'universo Marvel e purtroppo è scoppiata un'apocalisse zombie che ha infettato la maggior parte dei supereroi. Questi esseri cercheranno in tutti i modi di sfamare il loro appetito insaziabile però non avranno vita facile perché i restanti supereroi insieme allo shield cercheranno di contrastare ogni loro mossa. Dunque, siete pronti a sopravvivere a una nuova apocalisse zombie? Per quanto riguarda il genere abbiamo un American completamente collaborativo dove i giocatori dovranno scegliere uno scenario e risolvere gli obiettivi elencati. La partita è strutturata in round e ogni round è divisa in tre fasi. Nella prima si attivano i giocatori muovendo le loro miniature, sfondando le porte, acquisendo i tratti zombie, prendendo obiettivi, attaccando nemici, divorando passanti e una volta che avranno agito tutti toccherà i nemici. Quelli già presenti sulla mappa si attiveranno e occhio ai supereroi che ancora non sono stati infettati perché sono abbastanza temibili e successivamente ne arriveranno di nuovi in base al livello di pericolosità. Questa volta saremo noi cattivi e dovremo fare i conti con la fame che in realtà è un'arma a doppio taglio più aumenta e più da ritireremo durante gli attacchi però se arriverà al massimo perderemo in parte il controllo del nostro personaggio, potrà solo muoversi e divorare e fra l'altro vista la decadenza del suo corpo perderà un punto salute alla fine di ogni suo turno. Per fortuna aiutano i pasti pronti che vengono chiamati passanti, ci forniscono delle abilità speciali ed essendo un collaborativo o si vince o si perde tutti assieme ma come al solito non vi voglio anticipare troppo e vediamo il tutorial del gioco. Prepariamo una partita per quattro giocatori. Per prima cosa tutti i giocatori scelgono una missione e prendono i relativi componenti costruendo la mappa come indicato. Non appena è stata preparata formiamo la riserva composta dai dati, dai segnalini porta e da tutte le miniature che troverete all'interno della scatola. Dunque si erano i zombie, nemici e passanti vari e fatto questo mescoliamo coperti e separatamente il mazzo della generazione, dei tratti zombie e dei supereroi e li posizioniamo vicino alla mappa che abbiamo formato. Poi mescoliamo coperte anche tutte le carte passante e ne posizioniamo una coperta su ogni spazio che presenta questo simbolo. Una volta che avremo posizionato le carte sui loro spazi lasceremo il mazzetto vicino agli altri. Ah già quasi dimenticavo le carte missione segreta che è trovata all'interno del mazzo passante vanno rimesse nella scatola a meno che lo scenario non specifichi diversamente. Ovviamente fate la stessa cosa con tutti i componenti che non verranno utilizzati dallo scenario e fatto ciò ogni giocatore sceglie un eroe zombie, prende la sua scheda e successivamente gli viene consegnata una plancia giocatore. La scheda viene posizionata al centro e poi ogni giocatore sceglie un colore, prende tutti i componenti di quel colore e piazza i cubetti su questi spazi mentre per quanto riguarda la basetta viene collocata sotto la base dell'eroe scelto. Poi tutti gli eroi vengono posizionati sulla zona di partenza indicata dallo scenario scelto quindi per la missione 0 li posizioniamo su questa zona. Infine come ultimi passaggi assicuriamoci che l'indicatore sulla barra del pericolo sia a 0 e che ogni giocatore riceva un segnalino attivazione. Fatto questo è tutto pronto per iniziare. Una partita Marvel Zombies viene vinta quando tutti i giocatori riescono a completare gli obiettivi indicati sulla missione che hanno scelto mentre perdono la partita se non è più possibile completarli oppure se alla fine di un round un eroe zombie ha 0 di vita. Essendo un cooperativo tutti vincono o perdono insieme. La partita è strutturata in round e ogni round è diviso in tre fasi. La prima fase è quella dei giocatori dove tutti i partecipanti contemporaneamente aumentano il loro valore fame di 1 e ad eccezione del primo round rigirano il segnalino attivazione sul lato verde. Fatto questo tutti i giocatori devono attivare il proprio eroe zombie e non vi è un ordine di turno. Quando un giocatore esegue il suo turno per prima cosa gira il segnalino attivazione così da dichiarare che sta eseguendo il suo turno e non potrà farne altri per questa fase e subito può svolgere fino a un massimo di tre azioni. Le azioni possono essere eseguite in qualsiasi ordine e sono tutte ripetibili ad eccezione dell'azione ottenere un tratto. Quando un giocatore sceglie questa azione pesca la prima carta dal mazzo tratto zombie la rivela e la posiziona su uno di questi due slot. Se entrambi gli spazi sono già occupati e riceve una nuova carta può decidere o di scartarla o di togliere una delle presenti per fare spazio. Le carte tratto zombie hanno degli effetti o delle attivazioni speciali che il giocatore può sfruttare seguendo le istruzioni della carta. Il problema è che una volta che il giocatore ha soffruito del loro beneficio scarta immediatamente la carta quindi sono ad uso singolo. Vediamo adesso l'azione movimento. Il giocatore si può spostare dalla zona in cui si trova in una zona decente per quanto riguarda gli spazi aperti le zone sono delimitate dalle strisce pedonali e dunque questa è una zona mentre questa è un'altra invece per quanto riguarda gli interni questi sono composti da diverse stanze. Ogni stanza viene considerata una zona dunque facciamo che Iron Man effettua un'azione di movimento e si sposta in una zona adiacente effettuando una seconda azione di movimento continua a spostarsi in una zona adiacente. Attenzione se nella zona dell'eroe zombie vi sono dei nemici il movimento ha dei costi aggiuntivi. Per ogni miniatura nemica il nostro movimento ci fa spendere un'azione aggiuntiva quindi per uscire da questa zona Iron Man dovrà spendere due azioni di movimento. Nel gioco supereroi specialisti soldati e guardie vengono considerati nemici mentre i passanti non vengono considerati tali. Vediamo adesso l'azione aprire una porta. Le porte prestampate all'interno delle tessere di gioco vengono considerate chiuse. Se il giocatore si trova in una zona che ha contatto con una di queste porte chiuse la può aprire e si piazza subito il segnalino porta sfondata. Immediatamente appena la porta viene aperta riveliamo la carta passante all'interno e vi posizioniamo la miniatura corrispondente. Poi per ognuno di questi simboli sempre all'interno dell'edificio che abbiamo appena aperto si pesca una carta dal mazzo generazione e si rivela immediatamente. La carta indica quante miniature di quel tipo dovremo posizionare nella zona con questo simbolo in base al livello di pericolosità più alto tra tutti gli eroi zombie in gioco. Ad esempio in questo caso il livello di pericolo più alto è quello blu e quindi andremo a generare tre miniature soldato. Invece in questo esempio il segnalino pericolo è arrivato nella zona arancione e dunque vengono generati sette soldati. Nota nel mazzo generazione potrebbero esserci attivazioni extra o attacchi particolari come anche i temutissimi supereroi. Quando viene rivelata una carta supereroe peschiamo subito una carta dal mazzo supereroe la riveliamo e posizioniamo la miniatura relativa sulla zona dove è stata generata. Torniamo indietro e prendiamo per buona la carta soldati e dunque posizioniamo le miniature dei soldati sullo spazio di generazione. Vediamo l'azione interagire con un obiettivo. Se nella stessa zona dell'eroe zombie vi è un segnalino obiettivo questo può essere prelevato con un'azione. Di norma lo scenario specifica se questo fornisce punti esperienza oppure si attiva delle regole particolari. Vediamo adesso l'ultima azione ovvero l'attacco. Per prima cosa il giocatore deve dichiarare quale attacco vuole utilizzare. Tutti gli eroi hanno un attacco speciale che è quello blu mentre l'attacco di vora quello verde è comune tra tutti. Una volta che ha deciso la tipologia di attacco deve controllare il valore di gittata. Se questo è zero l'eroe potrà attaccare soltanto nella sua zona mentre se la gittata è uno o più può attaccare zone più distanti seguendo la linea di vista. Negli interni la linea di vista arriva fino a un massimo ad una zona di distanza mentre negli esterni solo le stanze adiecenti oppure senza limiti seguendo una linea retta nella zona esterna. Una volta che il giocatore ha dichiarato il tipo di attacco bersaglia la zona scelta entro la sua gittata e linea di vista. Nota importante è possibile attaccare i passanti solo con l'azione di vora mentre per tutti gli altri scegliamo noi. Il prossimo valore che il giocatore deve controllare è quello del numero di dadi che può tirare. A questo si aggiunge anche il valore di fame attuale che per l'eroe zombie in questione è uno. Quindi tra l'attacco e la fame il giocatore prende tre dadi. Adesso per colpire ogni dado deve fare almeno il valore indicato dal simbolo del successo dell'attacco di quell'eroe zombie. Quindi utilizzando l'attacco pungiglione ogni tre o più che esce su un dado viene considerato un successo. Pronti i dadi il giocatore li lancia e verifica i risultati. Se esce questo simbolo il giocatore aumenta la sua fame di uno. Invece per tutti gli altri risultati si controlla il valore di successo. Dunque in questo esempio ci sono due successi. Per la maggior parte dei nemici basta un successo per poterli eliminare però innanzitutto vi è una priorità dei bersagli. Ad esempio i supereroi devono essere sempre danneggiati per primi e poi alcuni nemici come appunto i supereroi richiedono un maggior numero di successi. Questo è indicato dal valore del cuore ovvero la robustezza che troviamo sulla carta di quell'eroe mentre le guardie richiedono due successi. Nel gioco non esistono le ferite quindi o si effettuano tutti i danni per uccidere il nemico oppure non lo si uccide. Facciamo che il giocatore viola ha effettuato un attacco a distanza 1 e questi sono i successi ottenuti. Per i soldati basta un successo e quindi ne togliamo due. Ricordatevi che l'eroe bersaglia sempre la zona, mai la singola miniatura. La maggior parte dei nemici uccisi durante la partita forniscono un punto esperienza. Fanno eccezione i supereroi sconfitti che forniscono tanta esperienza pari alla loro robustezza e di base i passanti forniscono 0 esperienza oppure bisogna controllare le specifiche della missione scelta. Ma cosa succede se invece effettuiamo l'attacco divora? Questo a prescindere dai successi elimina al massimo una miniatura però ha il vantaggio che riporta subito la fame a 0. Se invece la fame di un eroe zombie arriva a 4 quindi al massimo si applicano le seguenti modifiche. Il giocatore potrà effettuare solo azioni di movimento e attacchi divorare, non potrà fare nessun'altra azione e inoltre alla fine del suo turno subisce automaticamente una ferita. Sui concetti del divorare spieghiamo una cosa molto importante. Se il supereroe zombie divora un passante toglie la miniatura, prende la carta e la posiziona su questo spazio. Da questo momento in poi il giocatore potrà sfruttare i benefici indicati sulla carta che ha appena inserito. Se il giocatore dovesse ricevere una nuova carta può scartarla oppure sostituirla a quella già presente. Come spiegato prima ogni giocatore ha un massimo di 3 azioni ma queste possono aumentare se il giocatore arriva con il proprio segnalino pericolo su un colore differente. Ad esempio essendo arrivata a 8 ottiene il beneficio di quello stesso colore ovvero un'azione in più. Quindi gli eroi zombie oltre ad ottenere delle azioni aggiuntive hanno anche dei poteri unici che si sbloccano man mano che si potenziano. L'unico potere che hanno all'inizio della partita ovviamente è quello blu. Una volta che tutti i giocatori hanno effettuato il loro turno si passa alla seconda fase ovvero quella dei nemici. Per prima cosa tutte le miniature sul tabellone si attivano e i supereroi come anche gli specialisti effettuano due attivazioni mentre tutti gli altri una. Se un nemico già si trova in una zona con un supereroe zombie si attiva attaccandola automaticamente ed effettuandogli una ferita. Se invece non vi è nessuno nella zona dei nemici allora questi si spostano verso l'eroe zombie più vicino. Nel caso del dottor strange spende un'attivazione per spostarsi nella zona del supereroe zombie più vicino e con la seconda attivazione lo attacca e quindi lo ferisce. Questo specialista avendo due attivazioni effettua due attacchi nella zona. Se vi sono diversi eroi zombie saranno i giocatori a decidere come assegnare le ferite. Fate attenzione che i supereroi hanno delle abilità speciali indicate sulla loro carta mentre se vi sono diversi bersagli alla stessa distanza le miniature si suddividono nel modo più equo possibile. Se abbiamo un numero dispari si aggiunge una miniatura extra. Sappiate che i nemici non possono aprire le porte e se non hanno bersagli in linea di vista si muovono verso l'eroe zombie più vicino seguendo il percorso sgombro più breve. Invece per quanto riguarda l'attivazione dei passanti dipende dalla loro tipologia. Se hanno questo simbolo indica che sono combattenti e quindi si muovono e attaccano come i soldati mentre se non hanno alcun simbolo cercheranno solo di muoversi verso l'uscita più vicina. Fate attenzione che per alcuni effetti di gioco i passanti potrebbero essere scortati da due guardie. Finite le attivazioni si passa alla generazione. Si parte dal segnalino generazione 1 e si prosegue in senso orario con tutti gli altri segnalini generazione e per ognuno di questi si pesca una carta dal mazzo generazione e come spiegato prima si applicano gli effetti della carta in base a quanto scritto e al livello di pericolo più alto tra tutti gli eroi zombie in gioco. Attenzione se tutte le miniature di quel tipo sono finite allora quelle già presenti sul tabellone di gioco ovviamente dello stesso tipo hanno un'attivazione extra. Dopo che abbiamo generato i nemici si conclude la seconda fase e inizia la terza fase finale. Per prima cosa eventuali effetti che si applicano alla fine del round si attivano in questo momento e poi se uno o più eroi zombie sono arrivati a zero di vita tutti i giocatori perdono la partita. Se invece questo non è successo inizia un nuovo round con la fase 1 dei giocatori. Adesso che conoscete tutte le regole di base siete pronti ad affrontare l'apocalisse zombie? Finito con il tutorial iniziamo con la recensione e partiamo dalla componentistica. Io qui salvo solo la qualità dei componenti, le miniature sono davvero fantastiche, veramente ben realizzate come anche delle tessere spesse e dei segnalini robusti e inoltre a meno di scenari incredibilmente avanzati il gioco non occupa nemmeno tanto spazio sul tavolo. ovviamente rispetto alla media di questa tipologia di giochi. Oltre questo il fronte della componentistica per me è pieno di problemi. Innanzitutto la quantità. Mi sembra che rispetto alle scatole precedenti abbiano diminuito il quantitativo di componenti. Il regolamento è molto caotico e genera un sacco di dubbi. Ad esempio la questione delle porte prestampate che inizialmente non è ben chiara. Abbiamo anche un prezzo davvero esagerato. 140 euro mi sembrano tantissimi avrei preferito qualcosa come 80 90 euro al massimo. E ciliegina sulla torta mettiamoci anche che ci sono dei componenti che se non recuperiamo una scatola aggiuntiva non potremo utilizzare. Giusto quasi dimenticavo che l'inserto è fatto davvero bene ci sta tutto e anche i disegni e la grafica in generale è veramente di altissimo livello. Quindi per quanto ci siano molte miniature e siano da qualità sul fronte della componentistica trovo un bel po' di problemi. Spostiamoci all'ambientazione e devo dire che hanno fatto davvero un ottimo lavoro per ricreare la vita maledetta dei non morti. Il loro obiettivo sarà quello di sfamarsi continuamente per ridurre le pene della fame. Apprezzato anche il fatto che all'inizio la città è deserta, sono tutti chiusi in casa visto che c'è l'apocalisse zombie e l'escamotaggio utilizzato è molto utile perché va a ridurre di parecchio i tempi di setup. Dunque sul fronte dell'ambientazione hanno fatto davvero un ottimo lavoro. Per quanto riguarda le meccaniche hanno semplificato ulteriormente un gioco che di per sé era semplice però non tutti i mali vengono per nuocere. Innanzitutto non ci sono tempi morti vista la velocità delle esecuzioni delle variazioni. Poi molti trucchetti in merito alla preparazione come esempio le porte prestampate o che non bisogna mettere miniature tranne quelle degli eroi zombie rendono il gioco davvero immediato su questo fronte. Apprezzato molto il fatto che abbiano tolto l'equipaggiamento e abbiano inserito i tratti. Con i supereroi effettivamente non avrebbe avuto molto senso e mi è piaciuto molto il sistema della fame. Più aumenta più da ritireremo però rischiamo di andare in berserk. In sostanza se arriviamo al massimo della fame potremo solo muoverci e divorare. Anche il duplice attacco è interessante cioè se fare degli attacchi più devastanti che uccidano più miniature o divorare che ce ne fa pappare una ma riduce la fame a zero. Simpatica anche l'idea dei passanti che cercheranno di fuggire perché non tutti combattono ed alcuni in particolare saranno scortati. Ovviamente se già per voi zombie sa dare insopportabile vista la sua semplicità non puntate a questo perché è veramente estremizzato sotto questo punto di vista mentre se avete apprezzato i giochi precedenti di questa serie troverete una buona variante. Spostiamoci all'interazione si continua a portare dietro il problema dell'alpha player. Purtroppo un giocatore potrebbe dirigere l'intera partita però devo ammettere che mi si è rispettato giusto qualche sinergia in più tra i personaggi. Dunque sul fronte dell'interazione è la classica di un cooperativo. Per quanto riguarda la longevità secondo me è buona ma non eccellente. È vero che ci sono 10 missioni differenti che sono divise per tempo e difficoltà però abbiamo pochi eroi zombie pochi supereroi e alla fine le cose da fare sono veramente poche. Sicuramente incide molto la semplicità del gioco però tranquilli che non è uno di quei titoli che 1 o 2 partite via. Mettiamo in conto le diverse combinazioni che possono capitarci con i nemici, i tratti da utilizzare con un determinato eroe zombie, regole speciali dello scenario rendono comunque le partite un po' differenti. Quindi sul fronte della longevità direi che ok. Spostiamoci all'accessibilità e si è fatto davvero di tutto per rendere Zombicide ancora più accessibile. Già i precedenti erano molto semplici cacciaroni e tamarri ma qui veramente si è arrivato ad un estremo. Veloce da apparecchiare, semplice da apprendere e abbastanza tranquillo anche da padroneggiare. Sicuramente per chi cerca qualcosa di più complesso e profondo ha completamente sbagliato gioco mentre chi cerca un'esperienza per chiunque anche per dei neofiti ha trovato il gioco perfetto. Per quanto riguarda il fattore fortuna essendo un American ed essendo Zombicide ovviamente ce n'è tantissimo. Si tirano continuamente dadi per i combattimenti, i successi dipendono dal valore che è uscito, si pescano carte per generare i nemici oppure i tratti che ci forniscono dei bonus one shot. Insomma c'è davvero tanta fortuna quindi se volete un gioco controllabile deterministico non ci siamo proprio. Mentre se adorate tirare continente dadi e pescare carte allora fa per voi. Spostiamoci all'esperienza e come spiegato prima nell'interazione c'è il problema dell'alpha player. Quindi uno o più giocatori che conoscono meglio il gioco possono guidare l'intera partita e questo lo posiziona sicuramente nell'avere un vantaggio padroneggiando il gioco. Dunque sul fronte dell'esperienza valutate bene questo problema. Per quanto riguarda la scalabilità del gioco come anche indicato dal regolamento viene consigliato da quattro a salire. In meno giocatori lo si può comunque giocare però aumenta la difficoltà. È un tipo di gioco pensato espressamente da quattro a sei giocatori e sinceramente per come la vedo io il gioco ha pochi elementi che vanno a scalare. Spostiamoci la durata e hanno fatto un lavorone tra tempi di spiegazione setup e gioco effettivo un'ora massimo un'ora e mezza. Certo poi dipende dallo scenario e dal quantitativo di giocatori però come media direi che più o meno ci siamo quindi sul fronte della durata è davvero straveloce. Dipendenza della lingua il gioco è dipendente dalla lingua. Vi è del testo a leggere sulle schede degli eroi, sui passanti, sui tratti che vengono pescati, sugli effetti alcune carte generazione, ma comunque Asmodee Italia lo ha tradotto in italiano quindi non vedo problemi. Arriviamo infine alle mie impressioni su Marvel Zombies. Allora io vi anticipo che sta per arrivare una bocciatura di quelle come non mi capitava da un sacco di tempo e mi dispiace perché il precedente Zombiesad che ho recensito mi è piaciuto davvero tanto e in questo avevo altissime aspettative. Facciamo così, questa volta è al contrario, vi dico prima cosa mi è piaciuto e poi parliamo di tutto quello che invece non ho apprezzato. Innanzitutto il gioco a livello di qualità dei materiali è davvero top. Le miniature sono spettacolari, quelle degli eroi zombie, dei supereroi, dello shield, i passanti, veramente altissima qualità. Il titolo ha un paio di meccaniche davvero azzeccate come esempio quella della fame che ci fa tirare più dadi ma se arriva al massimo ci limiterà nelle azioni di solo movimento e divorare e purtroppo perderemo un punto salute alla fine di ogni nostro turno. Le cure sono davvero rarissime all'interno di questo gioco e devo ammettere che non mi è dispiaciuto che abbiano tolto l'equipaggiamento per inserire i tratti zombie. Anche il sistema dei passanti è molto carino, alcuni verranno scortati, altri ci verranno contro, altri scapperanno verso le uscite. Infine abbiamo un gioco super veloce, vuoi per i tempi di setup praticamente ridottissimi, le porte prestampate, non bisogna mettere miniature, mescoliamo i mazzi, piazziamo quei pochi segnalini, diamo gli eroi e via e poi anche un flusso di gioco veramente immediato e lineare. Le partite durano in media un'ora, massimo un'ora e mezza, ovviamente dipende dallo scenario e dal numero di giocatori e direi che con le cose che ho apprezzato ci fermiamo qui, adesso parliamo del resto. Innanzitutto mi sembra palesissima l'operazione commerciale di aver preso la Marvel e Zombicide e aver creato un gioco per attirare ancora più giocatori. Di base il concetto non mi dà fastidio perché apprezzo quando sempre più giocatori vengono introdotti all'interno delle serie, però qui abbiamo delle cose che non mi stanno tanto bene. Innanzitutto pare che abbiano ridotto il quantitativo dei componenti, ma abbiano comunque aumentato il prezzo in modo spropositato. 140 euro per la sola scatola base mi sembra davvero eccessivo e avrei preferito qualcosa come 80, massimo 90 euro. Poi vi è il discorso che alcuni componenti del gioco non li possiamo utilizzare se non compriamo un'altra scatola. Ok è un di più, però per il prezzo che un giocatore paga non lo reputo proprio correttissimo. Oltre ciò mettiamoci che il gioco ha perso parecchia profondità rispetto ai capitoli precedenti e per quanto non abbia giocato tutti gli scenari comunque non ho mai perso, quindi non è nemmeno difficilissimo. Per quanto abbiano rimosso dei concetti non proprio apprezzati come il fuocamico, però altri rimangono come ad esempio l'alpha player. Un giocatore con più esperienza rispetto agli altri potrebbe iniziare a guidare la partita. Come al solito molto dipende dal gruppo di gioco, però peccato che non si riesca a pensare a una variante per ridurre questo problema. Sulla longevità avrei anche qualcosina da ridire, perché è vero che ci sono i 10 scenari e alcune combinazioni differenti, però 6 eroi zombie e 6 supereroi sono un po' ripetitivi, in realtà proprio la struttura del gioco mi è sembrata un po' troppo ripetitiva. E infine mettiamoci una scalabilità non proprio eccellente. Io ve lo consiglio con 4 giocatori a salire, cosa che consiglia anche il regolamento di gioco, perché in meno giocatori diventerà semplicemente più difficile. Ci sono pochissimi elementi che scalano, ma la maggior parte riguardano il gioco in 5 o 6 giocatori. Ok, Zombicide è fatto per giocarlo in tanti e in compagnia, però anche qui qualche piccola variante accorgimento non avrebbe dato fastidio. Dunque, Marvel Zombies è quello che ho trovato più differente rispetto a tutti gli altri capitoli della serie, però mi sa tanto di operazione di rendiamola ancora più accessibile per attirare nuovi giocatori. Avesse avuto qualche accortezza in più nello sviluppare e mettere in commercio questo gioco, sicuramente l'avrei apprezzato maggiormente. Detto ciò, fatemi sapere un pochettino cosa ne pensate, l'avete giocato, vi è piaciuto il tutorial, concordate con me con la recensione, a voi è piaciuta questa deriva ancora più accessibile e semplice? Fatemi sapere, commentate qua sotto, vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale così da rimanere aggiornati su tutti i contenuti che usciranno e non dimenticate di attivare la campanella. Vi ringrazio tantissimo per aver visto il video e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!